Amici telespettatori, uno speciale polifemo dedicato alla storia del carnevale leporanese, alle sue tradizioni dall'origine a ieri, non possiamo dire ad oggi, perché come tutti sapete stiamo vivendo l'emergenza Covid ed è giusto che le manifestazioni di piazza non possano tenersi. E allora d'intesa con l'amministrazione comunale di Leporano abbiamo detto, visto che non si può vivere, non ci può essere un carnevale in piazza con le maschere, con i bambini, con i carri, cerchiamo allora di fare lo stesso carnevale rivivendo il carnevale leporanese negli anni, a partire appunto da quando è nato. Devo ringraziare il sindaco, il dottor Vincenzo Damiano, l'assessore agli spettacoli, la dottoressa Yolanda Lotta e tutta la giunta, l'amministrazione di Leporano per aver avuto questa sensibilità. C'è il Covid ma noi dobbiamo andare avanti, augurandoci per il prossimo anno di far sì che il carnevale possa ritornare ai fasti che gli competono, però così per un tre quarti d'ora cercheremo di far finta di niente e immaginiamo di essere nel pieno del carnevale. Iniziamo il revival, questo amarcord della tradizione carnacialesca leporanese con il primo cittadino, con il sindaco di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano. Una serie appunto di immagini, di analisi, di video per analizzare e valorizzare quello che è un fenomeno culturale, perché le tradizioni significano anche e soprattutto cultura. Certo, hai detto bene Luigi, il carnevale è un fenomeno sia di divertimento ma anche di cultura, quindi purtroppo quest'anno per il problema della pandemia non abbiamo potuto festeggiare, ricordare il carnevale e ci dispiace molto come amministrazione, soprattutto per i nostri bambini che attendono questo evento veramente con gioia e come sai hai visto, aveva il modo di vedere i video, negli anni precedenti abbiamo sempre onorato il carnevale, abbiamo dato la possibilità ai bambini ma anche agli adulti di passare dei momenti di felicità, di divertimento. Abbiamo tracciato un po' tutto il percorso a partire dagli anni 70, dal 77 in poi, per arrivare proprio agli eventi dello scorso anno con la sua amministrazione. Sì, lo scorso anno è stato un momento veramente molto bello, in cui abbiamo visto i bambini divertirsi, partecipare attivamente a quelle manifestazioni che abbiamo fatto in tutto il paese. Quest'anno non possiamo farlo, quindi l'unico modo per tenere vive le tradizioni, il ricordo del carnevale, abbiamo voluto fare questo video, pubblicare sui social in maniera da far ricordare ciò che è stato e sperare che il prossimo futuro ci possa consentire di poter ritornare a festeggiare, di stare tutti insieme, soprattutto per i nostri bambini. Proprio una operazione di marketing territoriale, di valorizzazione della storia, delle tradizioni, perché ovviamente ogni comune, ogni realtà ha sue tradizioni, ha sue caratteristiche. Il carnevale è anche come momento di esaltazione della creatività, anche per i più piccoli ma anche per i più grandi, perché significa proprio materialmente, plasticamente, tradurre in concreto quelle che sono idee, e quella che è appunto la forza creativa della mente. Sì, l'obiettivo della nostra amministrazione è quello nei prossimi anni di vivere il carnevale in maniera sempre più ampia e partecipativa da parte di tutti. Ciascuno che ha delle idee, le associazioni possono mettersi in contatto con la nostra amministrazione, e noi diamo spazio a tutti chiaramente in maniera da poter far aumentare quello che può essere il livello dei nostri festeggiamenti di carnevale. Siamo sicuri che nel 2022, crediamo, lei da medico, penso che tra i vaccini e tutto, penso che potremo almeno aspirare ad un po' di pace, di serenità, di sano divertimento con il carnevale. Noi lo speriamo, io come medico credo molto, spero che con le vaccinazioni che adesso pian piano inizieranno a coprire una vasta area della popolazione, possiamo finalmente venire fuori da questa pandemia che ha cambiato purtroppo le nostre abitudini. Ritengo che sicuramente l'anno prossimo potremo festeggiare tutti insieme. Però in questa ora di video, di reportage, vivremo il carnevale, seppur, come dire, in video, in tv, sui social, sul web, però almeno sarà carnevale per un'ora. Non sarà la stessa cosa, ma ci accontentiamo di questo e quindi vediamo questo video, lo vediamo noi, lo vedrà l'intera cittadinanza. La storia del carnevale leporanese si caratterizza per la satira politica che veniva espressa, appunto, veniva realizzata all'interno della rappresentazione carnacialesca attraverso carri, caricature dei soggetti politici, degli amministratori politici locali, amministratori ed opposizione. Una tradizione nata negli anni Ottanta e abbiamo un po' l'organizzatore dell'epoca e la memoria storica che è il signor Graziano Scarano. Allora, parliamo di questa satira. D'altronde era una cosa simpatica, intelligente, che punzecchiava gli amministratori locali, però era un modo anche di fare cultura e di fare aggregazione. Sì, avete detto bene. Negli anni Ottanta iniziamo con un gruppo di ragazzi che andavamo al liceo artistico, Maria Lipari, Cosma Grazia, la professoressa Delisanti e poi l'altro organizzatore che eravamo sempre insieme, Enrico Suma. Iniziamo a fare, diciamo, all'inizio del primo carnevale fu che facemmo danti pupazzi che rappresentavano gli amministratori, con delle vignette, una satira propria vera politica, che in quel periodo fu, diciamo, la prima volta che i cittadini si avvicinarono a capire qualche cosa del carnevale, perché nei carnevali precedenti erano sempre il semplice carro di carnevale morto, diciamo, no? E poi noi iniziamo a fare questi carri, che abbiamo proseguito per parecchi anni. Ecco, come è nata questa passione, come è nata questa idea? L'idea fu proprio con Enrico Suma, questi ragazzi che frequentavamo liceo artistico, e con un po' dei contributi che ci davano i commercianti, con le nostre risorse, cominciamo a fare dei pupazzi con stoffa, carta, spillatrice, eccetera, eccetera. Poi negli anni a seguire, perché ebbe un bello successo già la prima volta, nel secondo anno cominciamo a fare anche dei carri con carta pesta, con colla, con la vinilica, cioè ci cominciamo a attrezzare un po' meglio. Era certamente un modo per avvicinare i cittadini alla politica, perché poi attraverso quei carri magari si diceva ai politici quello che il cittadino voleva dire, che magari non riusciva a dire, non aveva il coraggio di dire. E come la prendevano i politici? Si sentivano un po' offesi o rimaneva o restava comunque uno spirito goliardico, simpatico, tipicamente del carnevale? Io ricordo una scena, proprio il primo carnevale, la prima volta che portammo in piazza gli amministratori vestiti da pupazzi, diciamo, e ricordo che quella volta chiesi proprio Aldo Delia, l'allora sindaco Aldo Delia, chiedemmo delle casse per la voce, la musica, eccetera, e ricordo questo particolare che la moglie non voleva, perché giustamente dicevi che vi sta portando in giro, sta facendo la caricatura e vi dobbiamo pure dare... Vi sta facendo la caricatura e vi dobbiamo pure dare... Ricordo questo particolare e in più anche perché noi rappresentavamo l'amministratore in base anche pure all'attività che facevano, era una cosa nostra... Goliardica, simpatica. Simpatica, simpatica, quindi c'era chi la prendeva bene e chi la prendeva male. E non vi nascondo, negli anni successivi abbiamo avuto anche un po' di sabotaggi da parte, forse da giovani, non lo so perché, però questa è una cosa che rimane proprio nel discorso pure locale, forse che non volevano che certe cose potessero crescere nel paese. Comunque, in ogni caso sarebbe bello magari, chissà, ripristinarla, perché è una cosa ovviamente fatta con educazione, con rispetto. D'altronde, se noi andiamo a Viareggio, andiamo i carri di carnevale a Viareggio, a Venezia, i nostri politici nazionali e internazionali vengono caricaturati, ma è una cosa che sta nello spirito, no? È l'ironia, la goliardia. Ma tanto è vero, quattro anni fa, con l'amministrazione D'Abramo, organizzai io, mia figlia e il gruppo dell'associazione La Grande Piantata, facemmo anche altra sfilata, abbiamo costruito dei carri proprio in questo capannone qui nella mia azienda e in più abbiamo portato anche i cavalli in piazza, vestiti da carnevale, un carro con traino, con un cavallo murgese, dove lì in quell'occasione mettemmo il carnevale morto sul carro e in più tutte le altre manifestazioni che ci seguivano da dietro. Ma c'era veramente l'entusiasmo di tutti, la collaborazione di tutta la gente, che venivano anche da fuori, cioè l'eleporaneo, quel periodo si riempiva di gente. Siamo con l'Avvocato Angelo D'Abramo, Presidente del Consiglio Comunale di Leporano, già sindaco e durante il suo mandato negli anni scorsi, lei insieme alla sua amministrazione avete dato un grande impulso al carnevale valorizzando quella che è proprio una tradizione propria, tipica di Leporano. Il carnevale leporanese si perde un po' nei tempi, anni 50, anni 60. Io ricordo i primi carnevali qui a Leporano con l'Ape si organizzava, però c'è stata sempre questa tradizione, c'è stata sempre la buona volontà da parte della popolazione di partecipare, grande partecipazione. Però negli anni precedenti, anche quando io sono stato sindaco, ma anche negli anni 80, 70, si sono organizzati il carnevale a un certo livello e quindi massima partecipazione proprio perché la gente ci tiene al carnevale e a partecipare, a festeggiare il carnevale. Purtroppo quest'anno siamo nel Covid, pieno Covid e quindi non ci permetterà di organizzare come amministrazione perché c'è tutta la buona volontà. Sono dei vetti insormontabili ovviamente, come è giusto che sia. E quindi si è pensato di riprendere un po', di fare un revival di quelle che non tutte le manifestazioni, delle quali ho partecipato anche io da giovane. Ma questo non lo sapevo? Insieme a mia moglie abbiamo dato anche il nostro contributo insieme a tutti le poranesi, quindi è un qualcosa che appartiene alle porano e nel cuore delle poranesi. Un momento, quello del carnevale, un momento di gioia, di divertimento, certamente per i più piccoli ma anche per i più grandi, perché è un momento in cui ci si diverte e non ci si prende troppo sul serio. Senz'altro è un momento di divertimento, ma soprattutto di aggregazione, di socializzazione. E appena finito questo periodo io auspico e l'amministrazione sicuramente auspica che tutti quanti insieme, soprattutto i giovani come facevamo una volta noi, partecipino a questo evento, a questa manifestazione che è importante, è un fiore dell'occhiello per le porane, come tutte le altre manifestazioni che si fanno. Siamo a casa del signor Fonseca, Antonio Tonino Fonseca. Fonseca ci racconterà tanto del carnevale le poranese sin dai suoi albori, ma ci soffermeremo su un anno in modo particolare, il 1999, in cui il signor Fonseca insieme all'associazione Luogo Vivo ha dato vita a quattro personaggi particolari, appunto, che hanno davvero spopolato a le porano. E allora, signor Fonseca, raccontiamo questo carnevale, questa storia infinita, questo amore a prima vista, sin dalle origini, come è nata la passione in lei, le sue collaborazioni con il carnevale le poranese. Sì, tutto è nato da un'idea dell'associazione, è mia, di Giovanni Mure, che faceva parte dell'associazione, il dottor Aprile, il presidente dell'associazione, di creare una maschera, perché come, per esempio, Bassafra ha Farinella, mi sembra come si chiama, quindi, di creare... Ogni città ha la sua, Napoli ha Pulcinella. Pulcinella, quello ha il balanzone, cioè non... L'anduia in Piemonte, quant'altro. Non lo troviamo a tanto, voglio dire, però, identificarci con un personaggio, e secondo noi quale più dei personaggi, meglio di quattro personaggi, realmente esistiti a Levorano, di personaggi un po' strani, diciamo, il carnevale è sempre stato così, e allora abbiamo pensato di coinvolgere le scuole. Ci fu proprio un terremoto, nel senso buono, di coinvolgimento di tutti i bambini della scuola, delle medie elementari, di Gandoli e Levorano, e io feci delle ricerche, ho sempre fatto delle ricerche, di quattro personaggi. Uno era il maestro Fennardi, che io ho menzionato tante volte. Il maestro Fennardi era uno che viveva da solo, e quando si ubriacava davanti del vino, si ubriacava, prendeva una spada di legno e combatteva con la sua ombra. Non lo so che cosa gli diceva la testa. I personaggi effettivamente esistevano? Tutti, poi ce n'era un'altra, si chiamava Tuvicodda, cioè Ludovica, in dialetto, poi noi stroppiamo, noi stroppiamo tutti i nomi. Questa qui era cannaruta, diciamo, golosa, e tant'è che per la golosità li fecero vendere la casa perché faceva redebito proprio per comprare tutte queste cose dolci, praticamente, e quindi è esistita veramente. Tuvicodda, Gesuel, un altro che purtroppo anche da solo viveva, che girava per le strade e tutto ciò che trovava si appuntava al petto, medaglie, medagliette, bottoncini, si sentiva un generale. E poi, non ultimo, Lu Birb, il Birbante sarebbe, era un personaggio strano, ridicolo, che subito dopo la guerra faceva il banditore e faceva anche il guaio, che faceva anche il postino analfabeta e chiedeva alle persone, ciò c'è, chi è questo qui? E portava la lettera. Quindi questi quattro personaggi che io ho illustrato, più o meno come vestivano, ho dato questa indicazione ai bambini. La creazione, cioè il mondo della creatività dei bambini. Io ho letto un suo bellissimo scritto, Carnevale, ieri e oggi, lo dico in italiano, ma vorrei sentire in vernacolo quanto lei ha scritto, perché potrei anche io leggerlo, però chiaramente non conoscendo il dialetto leporanese, quindi ci accomodiamo al... Prego, prego. Poi dalla fantasia di questi ragazzi coinvolti alla scuola, dalla loro fantasia, hanno scelto, hanno disegnato, e vinse poi questo personaggio che si chiama Mestre Bernard ed è uscito parecchio, due, tre anni. Poi si sono perse le tracce, ma ritornando a prima, lei vuol sapere più o meno il Carnevale di una volta? Esatto. Lo leggo perché... Lo legge e ci delizieremo proprio con l'inflessione proprio dialettale. Intanto facciamo vedere... Questo è il Mestre Bernardo. Ecco. Tra i quattro, questi quattro personaggi, lui vinse i bambini, quello che ebbe più su, come si chiama, dalla giuria fu questo personaggio. Che con la spada combatteva le ombre. Combatteva con le ombre, con la sua ombra, diciamo. Passiamo a sentire dalla viva voce del nostro amico. Cioè nel periodo di Carnevale a Leporano, io scrivo... Prego, prego. Nei paesi limitrofe c'era le usanze difficilissime, cioè diffusissime, non vedo, di approntare le fistine, feste da balla. Quasi in tutte le case. La mancanza di grandi saloni, la stanza più di tutte le altre, ammesso che ce ne fossero altre, veniva messa a suo quadro, era la camera da letto, la camera d'Uliet, che con i suoi 16 metri, addirittura, quadri, ospitava una diecina di coppie. Altre case che avevano il salone più grande ne ospitavano ancora di più. Ma io sto andando a braccio. E la... Praticamente... Come si chiama? All'angolo c'era un gramofono che aveva soppiantato il complesso, un jazz band che diceva una volta, con la chitarra e motore. Tutta la mia famiglia erano tutti suonatori di chitarra e mandolino, quindi erano un'orchestra e andavano a suonare. A un certo... A un certo... Colleggiamo proprio, leggo Luca Marone, Titanz... Luca Marone. Ecco, leggiamo proprio il... Luca Marone, Titanz, molto spazioso. Cioè la camera grande che tutte le case avevano... Come qua per esempio, quando entrava una grande sala, Luca Marone. E poi dietro, uno dietro l'altro, la cucina... Colleggiamo proprio tutto il testo. Luca Marone, Altre case più grandi avevano, fortunatamente, Luca Marone, Tenanza, molto spazioso e si evitava di smontare l'uliette con lo saccone di granone, il saccone, il materasso, il materasso pieno di foglie di Gran Turco. Quindi faceva rumore. questa era la... Spostare lì con le... Spostavano lì con l'onnetto, lo cumò, l'immancabile stampa del grande quadro di Gesù nell'orto degli olivi e l'ultima cena. Come tradizione, in capitale, in capitale al capezzale, e tu l'ulietto. La sala veniva addobbata con coriandoli e intorno venivano poste sedi appena lucidate con il petrolio casalingo a base di olio rosso e petrolio. All'angolo, per occuparmi lo spazio, l'ugrammofono. Il giradischi. Il giradischi di oggi. Chi aveva già sostituito la romantica orchestrina di chitarra e mandolino. Negli anni 30 e 40 l'intera famiglia di mio padre, io ho menzionato questa perché erano suonatori, suonavano tutti quanti. Poi c'era De Vittorio, il grande, il papà di Pino De Vittorio, non so se avete sentito mai parlare. Sì, sì, certo. Il grande cantante folk. E quindi, poi sono andato Petruzzi, sono tutti personaggi realmente esistenti. Non nominiamoli, non nominiamo. Sì, quindi Vincenzi, Iaceli, i miei zii, vabbè, Ziotello, ne formavano. E poi c'erano Petruzzi o greco, suonatori di violino, Pippine Taurino, detti criticatori perché il soprannome è la base di tutto qua. Tumase De Vittorio, Ugalipolini, e tempo dopo anche Mestanzino, Magri, che è morto, Lucanades, Enrico Spada e Giancora, Giaconia di Pusano, chi decideva l'ingresso delle maschere da balle era il capo Sala. In pratica erano dritti, ho preso un totale, e a lui era demandata ogni responsabilità e quando i festaioli si presentavano con la famosa frase c'è permesso per una maschera, c'è posto per una maschera, si sentivano rispondere, prima fatte canoscere, ci va a un briaco e girano larghi, qua non se ne fanno pure questione, poi, vabbè, l'hanno capito, pensavo, non volevano gente ubriaca, certo, ubriaca, non ci volevano questione, prima dimmi chi sei, i travestimenti carnivaleschi erano alla buona, uomini truccati da donne, nessuno li aditava come gay, è un gioco di parole, tutti sapevano ballare, la comparsita, la speranza perduta, tango delle capi nere, miglia vacca, tanna non c'erano ancora i ritmi latinoamericani e le donne non sapevano ballare le merenghe o la salsa cubana, però la sapevano fare la salsa, con il popoletore San Marsano, giunta all'ultimo giorno si aspettava la mitica sfilata del carro di carnevale, Carniale, Carniale, io non la sto dicendo, sto trascurando, soffermiamoci, una volta l'abbiamo fatto con lui e lui c'ha il filmato di Carniale sopra un nuovo cambro che facevamo l'operazione, aprivamo il carnevale e uscivano i polmoni, si divertiva così la gente, con poco, adesso steso su una, ritornando a Carniale, si presentava sempre di sole su un'ultrae ruota, la pecar, stesa con una bar e la moglie, Quaremma, che disperatamente agitava il fazoletto asciugalacrime, così di grande dolore per la morte del marito, il tutto attornato da botte di vino che la gente generosamente riempiva lungo il tragitto. Questo rito non lo si faceva così a caso, aveva un significato anche religioso, se vogliamo, quella penitenza, la quaresima appunto, la disperazione di Quaremma che era dovuto a fatto, era dovuto appunto al fatto che era finito il periodo del sollazzo. Era finito la quaresima, la quaresima, la quaremma, noi il dialetto, la quaremma, ma in realtà è la quaresima, veniva la quaresima e finiva tutto il divertimento. Molico sono canciato, non si parla più nelle case, nelle assordanti discoteche, con le gravi conseguenze che tutti conosciamo. forse bisognerebbe proibire della schiuma, vabbè, qui entriamo un'altra cosa che non mi piace, ma quando fanno, ma un appunto va fatto, tutto ciò che fa folklore, tradizione, deve anche avere un'impronta locale, come dicevo prima, è un po' come nella pittura, se uno dipinge, non conosce Venezia, cioè le scene giapponesi, io dipingo, uno dipinge quelle che conosce, e così dovremmo avere i personaggi locali. E quindi lei ha, e quindi ha menzionato, ricordi, menzioniamoli di nuovo, sarebbe bello anche creare personaggi leporanesi realmente esistenti in un passato molto vicino, come lei ha detto, come, ecco, rinominiamo i nomi, Tuvicod, Tuvicod, Gesuel, Lubirbu, e non ultimo, un grande Carlo, è la maschera ufficiale dell'Eporano, e quindi, che combatte con la sua spada di legno le ombre e i fantasmi di ieri e di oggi. Oppure il principe Mocetero, l'ultimo, lo principino, la principessa angelica, questo è qui. Insomma, noi dobbiamo ringraziare davvero il signor Fonseca, perché ci ha fatto vivere quelle tradizioni, quello spirito tipicamente carnevalesco, quella spontaneità, quella sensibilità, quella ingenuità anche, che oggi non c'è più, ci si accontentava di poco e si era felici con poco. Questo forse è il messaggio che deve passare, che dobbiamo trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti. Oggi ci sono tante brutte vie, brutte strade, la droga, tante cose, tante depravazioni. Se si tornasse a quello spirito, a quello spirito antico, forse sarebbe una storia diversa. Sì, sicuramente. Io devo dire una cosa, un'ultima cosa, ma non per... Fare la morale. Sì, per fare la morale. Negli anni 60, io ho una certità, sono coletaneo suo, anzi più grande. Parliamo, sta parlando di Mino Lorè che abbiamo intervistato e che è di fronte a noi. con la sua immancabile macchina fotografica. Lui ha un filmato di Carnevale. Negli anni 60 noi avevamo un gruppo musicale che andava per la maggiore. Abbiamo unitato con un festival dei gruppi musicali, del Batman 69. Io quando dico ai miei figli che io non so, non so che cos'è uno spinello. Non ci credono. noi suonavamo per... Si piaceva. Per piacere. Per piacere. Il bicchiere del whisky. Ma è una cosa sana, sana. Un sano divertimento. Invece adesso è cambiato tutto. Ecco, vedete, questa trasmissione oltre a voler far rivivere le tradizioni, il folklore, di una comunità molto attente, molto attiva per quanto riguarda il carnevale. Ecco, abbiamo voluto lanciare un messaggio di semplicità, di spontaneità per le nuove generazioni. E ringraziamo per questo, ringraziamo di tutto il signor Fonsica. una bella chiacchierata, una intervista così spontanea con la dottoressa Yolanda Lotta, assessore agli spettacoli del comune di Leporano. Ci stiamo occupando ovviamente del carnevale e, come dire, Yolanda Lotta è unanimemente riconosciuta come un fiume in piena per quanto riguarda le iniziative degli spettacoli e quindi in particolar modo il carnevale e quindi tanti anni dedicati a questa tradizione. Quest'anno, lo stiamo dicendo sempre, c'è il covid, ci sono i limiti ma, come diceva il buon Edoardo, ha da passare a nottata e torneremo a ridere, a scherzare, ad abbracciarci proprio all'insegna del carnevale. Sì, noi innanzitutto in questo periodo di congiuntura economica ma anche in questo periodo dove la gente sta passando questo periodo del covid abbiamo voluto portare avanti questo tipo di iniziativa con l'amministrazione comunale Damiano in modo da fare un percorso di ricordi degli anni. Un revival. Un revival. Parte, diciamo, i ricordi miei partono dal 77, dal 77 quando gruppi di Leporanese organizzavano già il carnevale però mi è stato raccontato che già negli anni 50 che io ancora non ero nata dai miei genitori neanche io siamo giovani già si faceva la morte si portava a Leporano c'era questa usanza di portare la morte del carnevale dove c'era un carro con delle donne degli uomini sopra che piangevano il carnevale morto e niente c'era questa tradizione che girava tutto il paese io ricordo che anche nella prima mia legislatura nel 95 con Aldo Delia sindaco feci la prima uscita su una macchina e mettemmo delle casse con della musica e dietro tutti i bambini che venivano dietro allora abbiamo poi portato ogni anno dall'ora Leporano è cresciuta perché abbiamo anche creato dei manufatti in carta pesta e ogni anno con l'aiuto di mio marito Pietro Mele che si dedicava garrista proprio garrista garrista perché da tanti anni io ricordo anche quando siamo andati a prendere mio figlio che adesso aveva 22 anni dalla Colombia anche lui piccolino ci dava questa mano qui a costruire questi carri tutto questo avveniva sia all'interno del castello che anche all'esterno diciamo nella batteria cattanea in un capannone chiamato denominato Portobello e qui partecipavano tutti i ragazzi tutti i giovani di Leporano era un momento di aggregazione sociale un momento dove uno portava il dolce dove ci si vedeva ci si parlava ci si confrontava e poi si aspettava il giorno di carnevale perché il giorno dopo erano le ceneri per poter uscire con questi carri con questo lavoro effettuato da tutta la comunità e portarlo avanti si sono susseguite tante amministrazioni e con tutte le amministrazioni abbiamo portato sempre avanti questo progetto e con la speranza che anche in futuro quando diciamo tutto questo finirà ci sarà anche la possibilità di portare avanti questa tradizione al Leporano una tradizione partita diciamo dagli anni 70 in pieno proprio nel pieno splendore è che ogni anno si è arricchita sempre di più si si è arricchita sempre di più ricordo Tonino Fonseca quando organizzavano il carnevale Orazio Scarano c'era anche Enrico Suma abbiamo proprio in questo reportage in questo speciale di carnevale stiamo intervistando i vari padri diciamo così le poranissi del carnevale ci tengo anche a ricordare Enrico Suma perché Enrico Suma con tutti Vita Tomai e altre persone di quell'epoca hanno hanno creato anche loro anche sulla scorta di quello che loro avevano fatto negli anni Radio Gamma io ricordo un carnevale anche sul comune che fecero io ero ragazzina tutti vestiti perché c'è proprio questa tradizione di vestirsi di collaborare ed era veramente una grande famiglia e ricordo veramente con affetto Enrico Suma perché Enrico Suma portò a Leporano anche questi manufatti in cartapesta ci venivano lavorati con il legno ricordo la balena ricordo anche diciamo le caricature dei politici dell'epoca quello proprio mi parlava Scarano mi parlava proprio di questa che era forse qualche politico anche non gradiva però era una cosa simpatica goliardica sì sì adesso non so voglio dire però io non ricordo bene però so che facevano queste caricature diciamo simpatiche per carica simpatiche però poi hanno portato Leporano a diciamo a portare avanti questa tradizione è veramente molto sentita perché quando usciamo il martedì grasso tanta gente esce perché ha la voglia di uscire c'è tanta partecipazione c'è tanto lavoro dietro io vorrei ringraziare tutti i Leporanesi che hanno partecipato ai carri tutti perché in tanti anni diciamo che dal 94 a oggi tanti sono stati si sono seguite tante persone che hanno partecipato alla realizzazione dei carri con anche le scolaresche perché anche con le scolaresche abbiamo partecipato con le scolaresche vorrei ringraziare la Proloco i presidi che si sono seguiti i ragazzi che hanno partecipato tutta Leporano perché veramente era un momento di aggregazione sociale un momento di confronto è veramente una cosa che è rimasta adesso che si vedranno le immagini che farete vedrete che è veramente una cosa che è rimasta indelebile nel ricordo dei Leporanesi la Proloco ha svolto sempre un ruolo importante nell'organizzazione del Carnevale un ruolo di supporto rispetto all'amministrazione e siamo con la signora Angela Riccardo in rappresentanza della Proloco beh è inutile negarlo è innegabile il Carnevale quest'anno ci mancherà mancherà molto e soprattutto qui a Leporano che le varie amministrazioni hanno sempre dato un grande spazio a questa festa e negli anni soprattutto l'assessore Iolanda Lotta si è occupata sempre con un grande entusiasmo di questa festività noi come Proloco ovviamente abbiamo sempre sostenuto tutte le manifestazioni in generale ovviamente come Proloco però in particolare nel 2019 non essendoci il sindaco il commissario Volpe il dottor Volpe affidò proprio alla Proloco l'organizzazione del Carnevale abbiamo organizzato due feste per quell'anno con il tema la fiaba e quindi ci sono state due feste una all'interno del castello e una in piazza per celebrarlo ci sono tanti cittadini che collaborano hanno collaborato collaborano e collaboreranno per la realizzazione del Carnevale certamente si tratta di una manifestazione bella impegnativa e allora occorre appunto l'apporto ed il supporto di tutti e qui abbiamo dei cittadini che si sono distinti per il loro amore verso il Carnevale per la loro azione di volontariato e siamo con la signora Daniela Todaro che ci racconta queste belle esperienze allora detto bene volontariato perché l'abbiamo sempre fatto per il nostro paese per i nostri concittadini per i nostri bambini si è sempre creato un gruppo bellissimo con padri di famiglia e madri di famiglia usando materiali di riciclo di risulta qualunque cosa e ovviamente del materiale che è stato necessario comprare perché e abbiamo realizzato cose davvero belle facendo coinvolgendo in questo modo si sono stati coinvolti i ragazzi i giovani gli adulti e abbiamo riempito veramente le strade del nostro paese abbiamo lavorato tutti insieme al freddo sotto la neve è capitato anche sotto la neve però l'abbiamo fatto davvero con il cuore i risultati sono stati bellissimi una gioia per i più piccoli ed una soddisfazione per i più grandi sì ha detto bene i più piccoli i più grandi e anche i più piccoli in alcuni casi sono venuti ad aiutarci perché noi abbiamo coinvolto tutti perché vedere un piccolino che si cimenta con i pennelli con la colla è bellissimo e questa è una cosa che porto nel cuore perché noi dobbiamo lasciare ai nostri figli ai nostri nipoti questa tradizione la tradizione del lavorare tutti insieme nel senso della partecipazione popolare sì oltre quello anche insegnare ai piccoli a lavorare la carta pesta a realizzare trabandare le tradizioni certo sì io parlo proprio della realizzazione di qualsiasi cosa di un carro di un oggetto di qualunque cosa perché comunque ora stiamo parlando del carnevale parliamo del carnevale io parlo invece di tutto quello che comporta durante l'anno la manualità proprio la manualità in senso più più esteso della parola sì ecco tramandare tutto questo con dei laboratori e noi abbiamo fatto nel nostro piccolo abbiamo fatto anche questo il signor Donatello Salvatore altro cittadino volontario amante del carnevale e delle sue tradizioni la stessa cosa della signora Totoro ci è piaciuto fare questa cosa del carnevale abbiamo collaborato con tutti i cittadini nostri con le amministrazioni con i cittadini un modo anche per sentirsi piccoli bambini per qualche giorno perché lei da bambino avrà vissuto il carnevale e quindi ora che è adulto è vaccinato diciamo così certamente ha a cuore questa tradizione e la vuole tramandare sì sì abbiamo voluto tramandare prego vuole aggiungere qualcosa alla signora Todaro oltre all'allestimento dei carri noi abbiamo anche realizzato i costumi del carnevale ogni carnevale ogni tema diverso casa mia diventava una sartoria dove c'erano tutti questi costumi ma ripeto aperta a tutti sempre come volontariato sempre ed è la cosa più bella che si possa fare per un paese per una comunità quando si organizzano manifestazioni in genere ma in modo particolare questa del carnevale con le sue musiche con i suoi suoni è prezioso il service e ho al mio fianco il signor Pizzuto Emidio che è il mago dell'audio ecco è una persona di poche parole che però è giusto ascoltare è giusto ringraziare perché ripeto dietro delle bellissime manifestazioni c'è tutto c'è un numero enorme di tecnici che non appaiono ma il cui apporto è prezioso che dire dirò due parole io sono stato sempre presente sempre nel service della musica le poranese come sempre tutti gli anni sono stato sempre presente a fare musica per contentare sempre l'amministrazione comunale anche da parte nostra per i bambini per i beni per i bambini solo questo qua io vi ringrazio grazie a lei eccoci con Mino Lorè una delle memorie storiche del carnevale le poranese uno degli organizzatori sin dagli albori dello stesso lui non vuole che non voleva che io lo dicessi ma io dico è anche il fotografo non dico ufficiale ma colui il quale con la sua maestria fotografica ha immortalato tutti i carnevali sin dall'origine quindi noi abbiamo usufruito e stiamo usufruendo delle sue foto appunto in tutta questa lunghissima storia beh intanto com'è nata la sua passione per il carnevale quando è nata facciamo un po' un excursus tracciamo un po' la storia di Mino Lorè con il carnevale le poranese la storia è nata vedendo sin da bambino già i carri di allora con i traini con i cavalli addirittura sino ad arrivare all'Arci ricordo molto bene che ero già grandino e mi rimase molto impresso un carnevale con i ragazzi del partito comunista che fecero un bellissimo carnevale e con quei ricordi siamo arrivati correva l'anno anni 60 orientativamente anni 60 subito dopo con quei ricordi arrivati con Radio Gamma creata Leporano ancora prima subito dopo Radio Leporano creare Radio Gamma e facemmo un bel dì il carnevale con i carri e ci diede una mano il signor Scarano e insieme facemmo con i ragazzi un bellissimo carnevale che è rimasto anche nella storia carnevalesca di Leporano con il signor Enrico Suma che ci saranno delle fotografie sicuramente abbiamo avuto anche modo di intervistarli e mi facevano riferimento al carnevale inteso come satira dei politici sì è vero è proprio vero e facemmo quello quell'anno con ricordo bene una poltrona grandissima perché tutti diciamo ambiscono per questa poltrona Leporanese come sindaco e tanti e tanti ancora oggi che cercano di arrivare all'anno in ogni città c'è questa ambizione esatto e noi facemmo una bellissima poltrona grande con un cavallo di Troia ed è rimasto molto impresso nella mia memoria e questo è tutto poi come si è evoluta lei da osservatore se non da organizzatore come ha visto l'evoluzione nei vari anni si sono succedute varie amministrazioni ora ovviamente la storia sarebbe lunghissima non è che possiamo fare la cronologia anno per anno però diciamo così a tappe forzate andando molto velocemente un po' ricostruiamo fino ad arrivare ai giorni nostri subito dopo è arrivata politicamente la signora Lotta e da lì sono nate diciamo le sfilate le mie vulcano di idee la dottoressa Lotta un vulcano di idee che non potevo rimanere diciamo da parte senza fotografare e mi sono dato diciamo a fotografare tutti questi bei carnevali ecco tutto con tutte ovviamente le amministrazioni le ultime amministrazioni l'amministrazione da Abramo poi l'amministrazione l'amministrazione dicevo da Abramo l'amministrazione Damiano e poi purtroppo quest'anno ovviamente ci sarà il vuoto cosmico perché purtroppo però la pandemia ovviamente non consente alcun tipo di manifestazione è giusto così sventuratamente il mondo sta morendo e non si può certamente mettere a rischio la salute per le sfilate ci saranno ne sono sicuro tempi migliori certo speriamo quanto prima di rivedere i carri carnevaleschi nella città di Leporano ecco rivivendo un po' le tradizioni lo stato d'animo che lei ha avuto modo di registrare di fotografare i bambini le mamme i papà che ci tenevano a mettere in mostra i loro figli a far sì che la mascherina dei bambini i vestiti indossati dai bambini fossero i migliori fossero i più belli i più sfavillanti più che parlare io parlano diciamo le mie immagini perché con le immagini manifesta diciamo tutta l'allegria del popolo leporanese che è una cosa bellissima con i colori con l'allegria con i coriandoli con i palloni con tutto le mie immagini parleranno e potrai rendertene conto anche te io devo dire che la dottoressa Lotta assessore agli spettacoli mi ha segnalato ovviamente tutte le fotografie dell'epoca e mi taggava su facebook e tutte le fotografie la maggior parte il 90% delle fotografie erano e sono di Minolore per cui dicevo ed era bello vedere alcune immagini sbiadite perché chiaramente all'epoca c'erano le pellicole oggi col digitale rimane tutto immortale però è bello vedere negli anni queste tradizioni che diciamo lo spirito è rimasto sempre quello seppur cambiano ovviamente gli scenari è vero è vero è proprio così i bambini sono sempre gli stessi con gioia sorridono sono allegri con i genitori molto vicini che gli danno tanto gli danno tanto vederli sorridere ridere gioire e questa è una cosa molto bella diciamo vivendo il carnevale dall'altra parte cioè non il carnevale che appare quindi i carri le varie maschere e quant'altro ma c'è tutto un lavoro retrostante di preparazione ecco il suo occhio la sua camera si sarà posata molte volte in quello che oggi si chiama in gergo il backstage quello che sta dietro e di fatti è così ci andavo sempre addirittura nei capannoni alla alla batteria Catania c'era un capannone dove andavo col freddo con la pioggia addirittura siamo andati a vedere ciò che si faceva ed era una cosa bellissima con i colori ho collaborato anch'io perché non potevo rimanere senza far nulla e ci sono dei ricordi molto ma molto belli davvero di questo backstage dietro il sipario si può dire che il Leporano ha proprio una sua tradizione forte legata al carnevale perché noi parliamo di Massafra e per carità Massafra è forse la capitale però Leporano devo dire ha un ruolo pari e di pari importanza come Massafra o come altri comuni che danno impulso alle tradizioni carnacialesche si si Leporano è una tradizione sentita e quest'anno ci mancherà moltissimo sono convinto che i bambini riusciranno a apprendere qualcosa anche da dentro casa mediante la tv mediante i ricordi la televisione infatti ringraziamo l'amministrazione comunale il sindaco il dottor Damiano l'assessore agli spettacoli la dottoressa lotta perché c'è stata la volontà la sensibilità di realizzare questo speciale il carnevale non lo possiamo vivere dal vivo però almeno viviamolo nei ricordi effettivamente è così meno male che ci sono le immagini e spero che ci siano anche dei filmati perché ricordo che molta gente filmava queste diciamo questi carnevali abbiamo tutto l'ottanta per cento di questo tutto è dovuto all'arte fotografica di Mino Lorè che ringraziamo ti ringrazio e ora sono nel bar Valentini di Leporano in piazza Immacolata il bar Valentini domina la piazza è situato proprio dinnanzi a Palazzo di Città al municipio di Leporano quando si entra qui il bar Valentini come dire dà il benvenuto e proprio qui in questa piazza si svolgeva tradizionalmente ogni anno il carnevale siamo col signor Sergio Valentini che è uno dei titolari di questo rinomato bar beh si sentirà la mancanza anche per il paese per i per i bambini è un discorso più prettamente per i bambini di divertimento di stare insieme di stare insieme di divertimento e quant'altro è anche un bene per il paese in tutti gli anni immagino cioè le immagini meglio di me parlano in maniera molto chiara c'era un brulicare di persone l'entusiasmo la vita c'era 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 gente c'era il paese era più vivo tutto qua era molto più vivo visto che del pedito non è possibile bisogna pazientare un po' è così tra un carro e l'altro i bambini mascherati le mamme e i papà emozionati accanto ai loro figli poi venivano in questo bar si rifocillavano il caffè una bibita un liquore qualcosa da mangiare insomma era un modo di stare insieme di stare insieme c'era movimento in paese al di là del discorso del mio lavoro però era il paese che era vivo visto le circostanze non è possibile ma come diceva il grande Edoardo ha da passare a nuttata esatto da passare a nuttata saremo di nuovo qui l'anno prossimo ne sono convinto sicuro perché i vaccini funzioneranno e ci godremo l'ottimo caffè del bar valentino e non solo il caffè tutti insieme a festeggiare il carnevale 2022 e concludiamo questo reportage con le immagini del carnevale in un percorso davvero ampio in un percorso nel tempo con l'augurio nel 2022 di festeggiare davvero un carnevale fantastico abbracciandoci e divertendoci così come abbiamo fatto negli scorsi anni in un percorso in un percorso in un percorso in un percorso e divertendoci la chiave in un percorso il carnevale e divertendoci il carnevale Grazie a tutti. Grazie a tutti.